Stata presentata ufficialmente la Valentinas Bottegone versione 2013-2014, come sempre nella storica sede del primo sponsor della Valentinas Camicette, come diritto il canovaccio ormai canonico, foto di squadra davanti alla sede della Valentinas, dello sponsor di Fabio Dani. Poi la consulata conferenza stampa di presentazione fra volti vecchi e volti nuovi, ma soprattutto l'entusiasmo. L'entusiasmo è quello di sempre e questo è sicuramente uno dei marchi di fabbrica tipici della Valentinas Bottegone. Molta emozione perché ritorno ad allenare, come ho detto prima, in una categoria importante, per cui sono molto emozionato, siamo tutti carichi. Gli obiettivi, onestamente, è un campionato un po' all'insegna del punto di domanda, secondo me, perché ci sono squadre ancora incomplete, molti giocatori bravi che non hanno trovato collocazione, giovani che magari ottimi, che magari non conosciamo, per cui è difficile, secondo me, in questo momento fare delle previsioni. Ci sono troppi punti di domanda. Noi pensiamo di aver allestito una buona squadra, questo indubbiamente sì, per cui siamo consci delle nostre possibilità. Se si analizza gli ultimi due campionati, si è fatto due campionati spettacolari. Se però si va a vedere in concreto come è andata, sono due ferite, due cicatrici che si portano addosso. A cose normali, firmerei un'altra volta, per come si è fatto questi ultimi due anni. Poi, dopo la speranza e la soddisfazione di fare anche qualcosa di più, è in noi, lo sai, come si perde due partite, da noi succede una tragedia, è una mezza catastrofe. Quindi vediamo che succede.